Anche oggi e per la penultima domenica in centro c'è stato il mobility day che si è esteso per la prima volta anche nei quartieri in qualche via di Borgo Roma e della Zai. Un'iniziativa che se all'inizio suscitava qualche dubbio ora sembra aver portato il sorriso almeno tra i cittadini che si sono spostati in bicicletta o che hanno scelto di parcheggiare fuori dal centro per godersi la bella giornata. Una mobilità a piedi, sostenibile, te la godo insomma invece che avere le macchine che ti sfrecciano accanto. Perché in fondo questo è lo spirito obiettivo dell'iniziativa che auspica a sensibilizzare i cittadini a muoversi sempre in maniera più rispettosa dell'ambiente. Meno macchine in giro, meno un guinamento che è, questa è la prima cosa. Secondo, se vive la città meglio insomma, mi penso per cui i puorini che abitano pieni di smog, se un giorno almeno hanno macchine, mi ricorda l'austerità del 73, che se la tornessi ancora per me sarebbe favorevole. Io lo trovo utilissimo, come vede io sono uno che si sposta esclusivamente in bicicletta in città, proprio per il rispetto dell'ambiente. Lo trovo, trovo un'iniziativa lodevole da continuare perché non dà fastidio a nessuno. A stendere magari anche agli altri quartieri? Magari agli altri quartieri sì, ma potrebbero avere un po' più problemi, però comunque si potrebbe anche provare. L'ambucato è di ossigeno puro per la città. Passeggia più tranquilli e più sereni. Passeggiate tranquilli, l'obbligo di continuare a guardare destra e sinistra delle macchine.